Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, buon anno, inizio anno insomma, buon saldi, buon tutto questo sarà il mio primo video del 2019 perché vuoi per tempo, vuoi per voglia, vuoi per tante cose che sono successe non ho mai avuto né modo né tempo né voglia di registrare, quindi sono giornata come avrete sicuramente letto dal titolo con i finiti dell'ultimo anno. Ho in mente alcuni video da registrare, quali decluttering ho in mente un progetto smaltimento, quindi fatemi sapere giù nei commenti se vi piacerebbe vedere questi video sul canale che mi metterò al lavoro e cercherò di girarli. Come potete vedere la mia sacchetta è strapiena e infatti lunedì passa la differenziata e io devo sbrigarmi insomma a girare questo video. Ah, se vedete la luce un po' diversa insomma, un po' cambiata, location, background, tutto quanto è perché avevo tanta voglia di registrare però non ho mai avuto modo e tempo soprattutto di registrarlo durante il giorno perché sapete benissimo che registro con la luce naturale ma questa sera la nostra fida fida la nostra fidata ring light ci sta dando il suo aiuto. È la prima volta tra l'altro che la uso fatemi sapere insomma se tra la luce gialla della camera e la ring light ne uscirà qualcosa di buono. Come primo prodotto gli affezionati del mio canale sapranno che il mio bagno schiuma preferito insomma che prediligo ultimamente nell'ultimo anno è stato del brand Nivea e appunto questo mese come poteva mancare un bagno schiuma eccolo qua questo è quello alla profumazione di rosa molto buono niente da dire io lo schippo proprio direttamente perché ne avrete sopra ai capelli comunque molto buono se volete provarlo quando lo trovate in offerta è un super prezzo super ottimo prezzo quindi top. Seconda cosa che ho finito questi ce li ho dall'anno scorso mi erano stati regalati in una confezione che conteneva tipo ciabattine crema per i piedi insomma robe del genere e conteneva anche questi che sono dei sali che appunto vanno messi nell'acqua per usarli per fare la pedicure insomma robe del genere questi erano all'olio di jojoba e all'olio di mandorle molto buone non è che li ricomprerei da soli sinceramente però la profumazione era ottima quindi anche il pacchettino la confezione mi era piaciuto un sacco. Un'altra cosina che finisco quasi ogni mese a volte ne consumo anche di più sono le saponette perché le uso per lavarci i pennelli questo mese ho terminato la saponetta di palmolive all'italiano o palm oil questa è molto buona odora insomma di olio di oliva di olio di oliva però non mi è piaciuta come lavava i pennelli quindi sicuramente non la ricomprerò dato che la uso uso le saponette semplicemente per lavare i pennelli altra cosina che sono andata insomma a buttare sapete il mio amore d'odio con le spugnette di real techniques cioè sono state tra le mie spugnette preferite in passato ma ultimamente non so perché cioè a me fanno tutte questa fine cioè si rompono in men che non si dica cioè io questa l'ho usata forse boh una settimana e mezza dopo una settimana e mezza era ridotta in questo stato non so perché secondo me mi sono uscite cioè difettose perché ce l'ho avuta in passato e cioè non ho mai avuto di questi problemi testimoni i primi video che facevo e le spugnette che usava che usavo erano real techniques ecco cioè mi ci trovavo benissimo queste non so che diavoleria avevano ma insomma cioè mi si spaccavano subito immediatamente si crepavano l'altro mese ne ho buttata un'altra qui addirittura c'è proprio perso pezzi e e quindi niente la sono andata a buttare restano comunque tra le mie preferite per morbidezza non vorrei dire per durata perché non posso dirlo però in passato non mi è mai capitato fatemi sapere se è capitato anche a voi perché io vorrei provare appunto come ho già detto a ricomprare quelle singole perché queste erano nel pacchetto da due quindi probabilmente non lo so erano diverse difettose non ne ho idea ma comunque vorrei provare a ricomprarle poi ho finito questo spray allo zinco se non mi sbaglio era per era semplicemente un campioncino che mi era stato dato quando avevo fatto un ordine in una farmacia italiana online però avevo comprato una crema mattificante avevo comprato altre due cosine di di questa marca e mi avevano mandato questo campioncino molto buono rinfrescante niente di che c'è tipo tipo un tonico però non è un tonico un acqua rinfrescante non lo so lenitiva insomma vi dovrebbe spegnere i rossori eccetera eccetera io non ho notato particolari differenze con o senza però mi aiutava a rinfrescare tantissimo dopo lo struccaggio per esempio avevo la pelle arrossata però insomma non è che si toglievano i rossori i rossori rimanevano però la pelle era molto più fresca e compatta quindi ve lo consiglio ni diciamo ni poi tra i miei preferiti di sempre dell'ultimo anno diciamo ci sono questi deodoranti per le ascelle della dottor organic la mia profumazione preferita è quella all'aloe vera infatti ho terminato già forse due o tre di questi deodoranti a questa profumazione e ce n'ho un altro aperto quasi che sta per finire ci sono tantissimo questa è la mia profumazione che insomma che preferisco perché è molto fresca appunto come vi ho già detto all'aloe vera è priva di alluminio insomma sls parabeni alcol eccetera eccetera costa un po di più però è veramente c'è noterete la differenza altro must have che non può mai mancare insomma nella mia skin care o sulla mia postazione insomma sul mio tavolino da trucco è questa acqua micellare di garnier non so se farà tipo riflesso ma comunque questa già ve l'ho mostrata precedentemente sapete che è la mia acqua preferita per eccellenza perché è l'unica che non mi fa bruciare gli occhi non mi crea nessun rossore particolare è quella che prediligo ho terminato questo questo siero all'acido ialuronico della pura organica marca che mi è piaciuta tantissimo infatti vorrei acquistare il siero per insomma per le borse questa è una marca 75 però per cento organica insomma ha degli ingredienti super ottimi è piaciuto tantissimo non aveva odore particolare anzi non sapeva quasi niente quasi di acqua l'unica cosa che posso dire non mi piace il dispenser però perché dato che è veramente tanto acquoso veramente sembra acqua quando lo spalmate sul viso questo applicatore non è il massimo perché ogni volta che andavo a premere cioè sulla mano il prodotto andava ovunque nella stanza purché sulla mia mano quindi sì lo ricomprerei però magari lo proverei ad usare con un dischetto di cotone anche se secondo me lo spreco di prodotto è talmente tanto che poi non varrebbe insomma il prezzo del prodotto all'interno c'erano 60 ml mi è durato veramente tantissimo qui c'è un'altra saponetta ho finito un'altra saponetta Dettol questa era antibatterica bla 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 una normalissima saponetta anche questa non mi è piaciuta tantissimo per lavare i pennelli perché non lo so non li puliva davvero a fondo quindi comprerò solo e soltanto Nive o DAV io di solito mi trovo benissimo con quelle DAV quindi infatti è quella che ho aperta adesso in bagno e queste le avevo volute provare per curiosità ma niente ho finito delle salviettine di no salviettine come si dicono i pad di cotone questi erano di Primark sapete che sono i miei preferiti al momento di quelli che trovo in giro è questa bella confezionona gigante all'interno ce ne sono tantissimi non so quanti 100 pad costa 90 pence quindi tipo 1 euro e 10 qualcosa del genere e mi piacciono tantissimo perché sono quelli double fast da un lato sono tipo zigrinati dall'altra parte sono lisci e sono stra top poi ho finito un po' di correttore ne ho finiti ben 3 questa volta uno è il Conceal & Define di Makeup Revolution appoggio gli altri due qui la situazione è un po' precaria questo qua quindi di Makeup Revolution mi è piaciuto davvero davvero tanto penso che lo ricomprerò adesso anzi stavano anche in offerta su Superdrug se non mi sbaglio dovrebbero stare anche in offerta sul sito di Revolution su Makeup Beauty dovrebbero stare insomma in offerta perché insomma se ci stanno qui le offerte ho capito che poi ci sono sugli altri con rispettivi siti mi è piaciuto tantissimo è un po' liquidino però insomma non mi ha disturbato questa volta questa cosa la mia colorazione era la C5 e ve lo straconsiglio l'altro must have che questo è forse penso il mio correttore di fiducia preferito è il Fit Me di Maybelline io avevo una colorazione un po' troppo scura per me ma lo sono andata tanto a sfruttare per appunto le parti più scure delle mie occhiaie quindi lo sono riuscita a smaltire è ottimo perché ha un'alta alta alta coprenza e dura anche tantissimo l'ultimo che ho provato a ricomprare ma non lo ritrovo più da nessuna parte sfortunatamente per me ma questo è strafinito è il camouflage di Essence questo è un correttore waterproof eccetera 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 super low cost la mia tonalità era la 30 light honey questa è la meraviglia super low cost ve lo consiglio soprattutto per il prezzo e poi dà un ottimo ottimo risultato sulla pelle soprattutto usato in combo con il Fit Me di Maybelline è una cosa perfetta ultime cosine che vi faccio vedere prima di passare alle maschere sono due pacchettini di salviettine struccanti una è di Garnier queste sono pelli sensibili questa è la confezione qui ci sorvolo perché già ve l'ho detto in passato non è un sì o un no sicuramente non le ricomprerò da adesso in poi perché non sono imbevute ogni volta devo usarle due o tre insomma non ne vale il gioco non regge la candela non ne vale la candela la candela non ne vale il gioco non lo so come si dice comunque per me non ne valgono la pena e le ultime che vi faccio vedere sono queste di Pure Sensitive non so la marca come si chiami sinceramente io le trovo da Savers o da Poundland certe volte o le trovo anche da Primark se non mi sbaglio insomma sono queste per rispetto alle altre sono molto molto imbevute e cioè vi bastano due salviettine per struccare proprio completamente sia occhi, labbra e viso quindi ve le consiglio molto di più di quelle altre costano anche di meno di solito vengono a pacchetti da due o da tre quindi fate voi all'interno ce ne sono 20 no qui ce ne sono 30 lì in queste invece ce ne sono 25 quindi fate voi un po' convengono molto di più queste qui di Pure ok adesso vi tocca assorbirvi tutta quanta la carrellata delle mie maschere finite no sto giocando ne sono tantissime ma voi non immaginate quante ne sono veramente tante perché mi sono data alla skin care vuoi per il freddo vuoi per insomma perché ho avuto poco tempo libero però in quel poco tempo libero mi sono dedicata alla mia pelle perché appunto stava risentendo di stress e agenti climatici eccetera eccetera quindi ne ho finite tantissime non è vero solo perché mi piace fare le maschere cercavo delle giustificazioni però usibili ma ahimè non ce ne sono mi sa allora la prima che ho finito è stata questa che vede che sono innamorata pazza folle di queste maschere la prima che ho finito appunto è la Pure Clay la Glow Mask di L'Oreal che è questa all'interno questa aveva anche dei piccoli granellini che vi aiutavano a scrabbare anche il viso quindi aveva doppia azione illuminante e appunto scrabbante se mi sentite con poca voce è perché mi fa tantissimo male la gola ve la straconsiglio se la trovate andate a comprarla molte volte le trovate anche a sconto quindi convengono tantissimo poi per la famiglia delle maschere liquide ho finito una due tre quattro cinque maschere liquide questa è la maschera purificante questa qui di Oshan questa aveva andata una mia amica direttamente dall'Oshan buona da non aspettarsi chi sa che cosa però fa il suo dovere vi appiana tutta la pelle ve la pulisce ve la schiarisce anche leggermente quindi ve la straconsiglio poi non credo costi tantissimo quindi se vi trovate all'Oshan fatemi sapere se l'acquistate e come vi ci trovate poi altra mascherina che mi è stata mandata da Federica che la trovate qui mi raccomando andatevi ad iscrivervi al suo canale perché è una ragazza a parte super dolce ma è una ragazza super interessante quindi mi raccomando andatevi ad iscrivervi al suo canale si chiama Libera di Sognare ve lo lascio anche qui in sovraimpressione da qualche parte o vi lascio il suo canale insomma vi lascerò il link da qualche parte come regalo di Natale mi ha mandato oltre a questa che vi mostrerò altre cosine che cioè io la ringrazio ancora anche adesso perché non mi aspettavo insomma tutto questo calore e sono felicissima di averla incontrata insomma qui su Youtube e spero un giorno di incontrarla anche dal vivo comunque mi ha mandato questa mascherina della Vivi Verde Cop ed è la maschera nutriente rassodante questa è questa è la maschera in questione io l'ho fatta e mi ha mi è piaciuta tantissimo all'interno ve lo leggo per non sbagliarmi contiene calendula burro di karité e proviene da un'agricoltura biologica mi è piaciuta tantissimo a parte l'odore è un odore proprio molto di zucchero filato non c'è molto dolce io ci ho riscontrato sta cosa semplicemente perché sono un po' pazza mi è piaciuta tantissimo mi ha schiarito la pelle la pelle dopo l'applicazione era stramorbida ci vogliono solo 10 minuti a farla e quindi io ve la straconsiglio altra mascherina che vi ho citato e recitato e recitato nei miei finiti è la maschera in crema della dottor Organic questa ha la bava di lumaca super buona vi lascia la pelle schiarita morbidissima purificata quindi io ve la straconsiglio questa ha anche un'azione anti-age quindi altra mascherina che vi consiglio cioè questa dovete non andare a comprarla questa dovete fare scorta è la mascherina di Geomar ed è questa ve la mostro subitissimo prima che mi dilungo in 100.000 discorsi viene in un pacchettino doppio io la parte alta l'ho tenuta semplicemente per tenermi a mente tutti gli ingredienti eccetera eccetera questa è una maschera alla pappa reale e al bio burro di karité è una maschera che si fa in soli 5 minuti e vi lascia una pelle cioè io con tutte le maschere che ho fatto fino ad adesso non ho mai trovato una maschera che mi lasciasse la pelle morbida e nutrita proprio la sentite nutrita come me l'ha lasciata questa l'altra maschera che ho finito è questa antistress della hq molto buona qui dice 3 dosi io in realtà ce ne ho fatte mi sembra 4 insomma 4 e mezzo perché l'ultima applicazione l'ho messa solamente su sulle rughette di espressione insomma l'ho terminata in questo modo questa me l'aveva comprata mia mamma e adesso che tornerò in italia molto presto sicuramente andrò a ricomprarmene alcune perché non mi è dispiaciuta affatto ne ho un'altra all'argilla che mi piace tantissimo e credo di ricomprare proprio quella però ce l'ho ancora nel mio cassettino poi come maschere di cotone ho finito alcune mascherine di W7 che è una marca che mi aveva incuriosito tantissimo continuavo a vedere in giro di qua di là palette è una marca che fa insomma molti dupe come Makeup Revolution eccetera eccetera e quindi poi ho trovato le maschere come potevo non acquistarle ho preso queste tre che sono nello specifico la maschera al carbone attivo la maschera al cocco e la maschera al caffè io l'ho presa semplicemente cioè sono stata tentata da quella al caffè ma purtroppo per mio dispiacere non mi sono piaciute semplicemente perché questa puzza puzza proprio di qualcosa di brutto non lo so puzza di di acqua sporca del water non lo so puzza di qualcosa di schifoso quindi non la ricomprerò mai più questa al cocco ni nel senso che di cocco non ha niente questa al caffè idem non era niente di speciale ma la cosa peggiore che non mi è piaciuta è la forma perché avevano una forma tipo fatta a triangolo proprio così in 3d e quindi quando lo mettevate sul viso si spiccicava ovunque e no per me è no maria altro must have che non può mai mancare infatti devo rifare scorta perché mi stanno finendo e questa rimane la mia maschera preferita credo è quella della apieu questa già vista stravista sul mio canale da un anno che faccio video insomma l'avete rivista 100 miliardi di volte questa in particolare è la maschera alla banana è di una marca coreana della apieu appunto questa potete trovarla sia su aliexpress sia sui vari siti cinesi coreani giapponesi e sia su ebay infatti io l'ho presa su ebay non so se la trovate su amazon ma provate a darci un occhio ho finito anche questa maschera della dr jart ed è la clearing solution molto buona di questa mi è piaciuta mi è piaciuto tantissimo e infatti c'è ancora il profumo niente di speciale ho potuto notare la chiusura tipo dei pori qui perché questa se non mi sbaglio l'avevo fatta tipo prima di truccarmi o prima di andare al lavoro quindi ho visto sì in quel momento la chiusura dei pori eccetera eccetera però il giorno dopo erano tale quale prima quindi voi direte che ti aspetti da una maschera in tessuto con una sola applicazione niente appunto cioè andava benissimo così però per quello che costa cioè tipo queste maschere costano tipo 7-8 pound io le avevo pagate a 2,99 in offerta insomma per il pezzo che costano non credo che la ricomprerò o se la ricomprerò cercherò di prenderla in offerta poi 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 ho finito questo pacchettino di che conteneva tre maschere della marca The Creme Shop non ve lo sbattocchio più di tanto perché all'interno c'è ancora del siero era un cofanetto che conteneva all'interno queste tre maschere tipo energizzanti non mi ricordo si energizzanti al blueberry white perle bla 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 io le ho prese ovviamente come potrete ben immaginare per il pack perché dato che io sono leone ho trovato appunto questa collezione di galassia insomma segni zodiacali e ho preso questa per me e una l'ho mandata a mia mamma che è toro quindi avevo trovato torre e leone e una l'ho presa insomma da provare e una l'ho mandata a lei niente di speciale non le ricomprerò ammorbidivano tanto la pelle ma ripeto niente di speciale questa comunque è una delle mie marche di maschere preferite sempre parlando di The Creme Shop ho finito due di queste maschere alla rosa che sono molto lenitive insomma si sa le proprietà della rosa sono tra le migliori lenitive intendo due di queste alla rosa super buone lo stesso se le trovate in offerta o se le trovate su siti europei tanto di guadagnato e poi ho finito due sempre facendo che fanno parte di un pacchetto contenenti cinque maschere sempre di The Creme Shop due maschere alla lavanda che appunto sono molto lo stesso lenitive buone per infiammazioni per l'acne appunto insomma e poi l'odore che hanno queste nello specifico è qualcosa di paradisiaco non lo so se vi piace la lavanda ma a me non tanto devo dire la verità neanche la rosa ma queste due hanno dei profumi spettacolari quindi sono super approvate ultime ma non per meno importanza anzi sono uno tra il marchio di uno tra i marchi delle mie maschere preferite e queste sono forse tra le mie preferite insieme alle sorelline blu ho finito cinque addirittura maschere della marca Kina Cosmetics e queste sono le maschere anti aging rinfrescanti insomma maschere ottime tagliate benissimo ottimo odore ottima quantità prodotto all'interno ottimo prezzo perché queste costano addirittura se non mi sbaglio 5,99 10 maschere quindi perfette cosa gli volete dire ebbene questo è tutto io vi ringrazio per esservi sorbiti tipo più di 20 minuti sicuramente di video vi mando un bacio grande mi raccomando fatemi sapere nei commenti come vi ho chiesto all'inizio se volete video decluttering se vi farebbe piacere vedere anche il mio progetto smaltimento prodotti io vi mando di nuovo un bacio grande e noi se vi va ci vediamo con un prossimo video ciao ciao